Siamo con alcune delle ragazze del progetto EVA, presente a quarto da poco tempo, già molto attivo sul territorio in difesa delle donne. Di cosa vi occupate in particolare? Il progetto EVA nasce la consulta di domani di quarto e in particolare si occupa della condizione femminile nella società attuale. Infatti finora ci siamo mosse con attività di cineforum e dibattito. Abbiamo anche fatto un'iniziativa lanciando un opuscolo sulla contraccezione, sull'aborto nei quali erano presenti numeri di centri antiviolenza del territorio napoletano e appunto si propone di analizzare le varie situazioni in cui la donna attuale si trova. Per esempio ci siamo concentrati in particolar modo sulla violenza nell'ultimo periodo dato comunque l'escalation di violenza che si è verificato nell'ultimo anno, nel 2012, e anche nel 2013. E proprio per la giornata dedicata alle donne voi avete deciso per la prima volta di scendere in piazza con un evento, come mai? Sì, l'8 marzo faremo un evento pubblico perché riteniamo che comunque l'8 marzo sia diventata una giornata commercializzata. Invece la giornata dell'8 marzo è nata come una giornata di lotta per le donne e tale deve rimanere. Noi non vogliamo gli auguri perché di auguri purtroppo ce ne facciamo ben poco, soprattutto come ha detto Palma, dato che gli ultimi avvenimenti che caratterizzano la società, quindi gli omicidi e la violenza che viene perpetrata sulle donne, sono più che mai ormai attuali e numerosi. Quindi l'8 marzo vogliamo rilanciare questa data e anche valorizzarne il contenuto che non deve essere una giornata in cui le donne per la prima volta in un anno danno libertà e sfogo a quelli che sono i loro diritti che invece devono valere per tutto l'anno. Dunque in che modo sarà diverso il vostro 8 marzo? La giornata comincerà, l'iniziativa comincerà alle 5 del pomeriggio con animazione per i bambini in piazza. Ciò servirà anche ad attirare quel pubblico di mamme che solitamente tendono a non partecipare a queste iniziative proprio impedite dal fatto che magari i bambini sono troppo piccoli per parteciparvi. Verso le 6 si terrà una proiezione della puntata Strage di donne che è andata in onda pochi giorni fa su Rai 3. Questo seguirà un dibattito al quale speriamo parteciperanno varie associazioni presenti sul territorio napoletano e a seguito musica live, DJ set e cena sociale. Grazie a tutti.